ma sapete sapete cosa ce ne frega noi di crepè che abita vicino a Harry Styles quando qui in questo studio è appena entrata Laura Pausini ciao ciao sono passata da DJ non volevo io devo salutarti devo stare un po' con te io sono passata da DJ nel senso che da oggi lavori qua con noi ti piacerebbe fare la radio? guarda sì mi piacerebbe però facciamo una roba insieme sì perché lo sai che noi siamo stati un po' di giorni insieme quando abbiamo fatto l'Eurovision a Torino e sono stata così tanto bene insieme a te mi piacerebbe tantissimo rifare qualcosa di strano tutte le volte giro non ci sono mai e oggi ho detto sono qui c'è Anno devo passare hai fatto bene hai fatto bene ma adesso dobbiamo pensare qualcosa di gigante dai di cosa state parlando? allora oggi pensi volevamo fare una puntata che di solito non facciamo mai musicale di solito ci occupiamo un po' poco di questa roba oggi volevamo fare una puntata con tutti quelli che fanno un altro lavoro ma hanno anche un po' il talento del canto e hanno fatto canzoni tipo Johnny Depp Robert Downey Junior Harry Styles più o meno ha fatto il contrario lui parte dal canto e poi fa gli attori quelli che sono più sono multitalento come si suol dire come noi Laura come noi come noi ragazzi dai in Italia c'è Elodie? è vero sì beh tu hai recitato sì beh no no io ho fatto me stessa comunque anche se stessi non è facile no no però comunque Elodie molto brava sì è vero recita molto bene anche Emma Emma brava Emma con come si chiama? con Muccino sì esatto con Muccino Cesare ha fatto un film con Pugliavati è vero è vero eh no c'è qualcuno c'è è vero ha ragione beh Liga fa regista sì sì c'è roba c'abbiamo 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 mettiamoci anche noi facciamo quello secondo me dovremmo dovremmo fare una sitcom io e te adoro tipo Casa Vianello però noi due Paolatelan Paolelan Paolelan dai Cattini Casa Cattini Casa Cattini è più italiano Casa Cattini sembra un po' più una roba di borgata un po' una roba così dove vai adesso? dove vai? dove vai? vado a fare un bel giro qua a Milano tutto promo tutto promo tutto promo e poi dopo si parte inizio l'Europa adesso eh che bello facciamo un promo che devi dire sei qua facciamo un promo dove vai? cosa sei promuovendo? no sta promuovendo il nuovo disco che si chiama Anime Parallel sì ho sentito la canzone con tua figlia eh sì tenerezza tenerezza e poi a dicembre inizio il tour bene dai vi aspetto tra l'altro ma nonna ma certo ma certo vi lascio scusa se sono fatto questa irruzione così questa è sempre casa tua Laura quando vuoi buttati dentro ciao ragazzi buona giornata ciao Laura un bacione un bacione un bacione sai che non mi ricordo più Mauri ma l'abbiamo già messa la sigla o no? non ancora Laura ci lanci la sigla? uè ragazzi sigla ciao Laura